Il Runstad Award diventa anche regionale. Con le edizioni dedicate al centro Italia e al nord-est, infatti, il premio assegnato alle aziende più attrattive secondo i potenziali dipendenti sbarca sul territorio. Quest'anno per la prima volta abbiamo organizzato il Regional Runstad Award che nasce da Runstad Award nazionale, che è una ricerca che misura l'attrattività delle aziende da parte dei potenziali dipendenti, quindi non persone che operano all'interno dell'azienda ma dell'opinione pubblica. Da circa 5 anni, da 2010, organizziamo il Runstad Award a livello nazionale e quest'anno abbiamo deciso invece di declinare questa ricerca anche a livello territoriale e questo per valorizzare, crediamo, la specificità del territorio italiano che è ricco di piccole e medie imprese. Infatti, il Runstad Award nazionale prende in considerazione aziende con un numero di dipendenti superiore a 1000, mentre nel Regional Runstad Award le aziende che sono state oggetto della ricerca hanno un numero di dipendenti compreso da 200 e 999, quindi questo proprio per legare la ricerca alla territorialità locale. E anche sul territorio la carta vincente per la competitività si chiama Employer Branding. È stata molto apprezzata da parte delle aziende questa iniziativa e noi come Runstad poi dobbiamo essere molto attenti perché le aziende chiedono a noi di reclutare per loro le persone e solo con le aziende dove sappiamo che le persone vanno volentieri a lavorare, a noi piace lavorare. Adesso siamo in una fase di mercato di grande crescita, un po' tutti i mercati crescono, perciò le aziende hanno bisogno di persone e le persone sono sempre meno perché la demografia è lì per dirci che nascono sempre meno persone in Italia e sempre di più si sente la mancanza di veri talenti. Perciò è molto importante concentrarsi su riuscire ad essere attraenti per le migliori persone.